Un saluto, ben ritrovati come state, spero bene, io non un gran che bene, oggi non sto un gran che bene, spero di rimettermi presto, ecco ragazzi, speriamo, dai, acciacchi malanni di stagione, forse, boh, chissà, vi invito a iscrivervi qui in questa zona, sul logo di Milanello, ragazzi siamo sempre più numerosi, ancora 4-5 iscritti, superiamo gli 88.400, dunque un grazie a quelli che già ci sono, e un benvenuto ai nuovi, è un canale in cui si parla quotidianamente di Milan e in cui adesso andiamo ad approfondire alcune questioni che mi fanno arrabbiare anche parecchio, alcune non le conoscevo e devo dire che aprono un capitolo nuovo purtroppo clamoroso. Voglio fare un accenno, visto che è una questione purtroppo che è diventata molto di attualità ieri sera, intanto in generale lasciatemi dire che il finale di partita con quella rissa tra giocatori del Juventus e dell'Inter è stato uno spettacolo indecente, da vergognarsi, davvero brutto, scene da far west che indipendentemente dalla fede poi si commentano credo in maniera univoca. C'è molta discussione sul secondo giallo a Lukaku, massima solidarietà per quello che ha sentito, per quello che è stato purtroppo, per quello che è arrivato alle sue orecchie, ai presenti, ovviamente prendiamo le distanze essendo persone civili rispetto a quello che è successo, chiuso, solidarietà, aperto un nuovo capitolo, il secondo giallo però è sacrosanto. Ora molti pubblicano la foto di lui di un'usultanza col Belgio, non c'entra nulla, avrà fatto così ma ieri ha detto state zitti, legittimamente eh, perché è stato provocato, state zitti, muti, 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 pubblicare due foto freeze, c'entra nulla. Indipendentemente dalla fede bisogna dire che chi ha detto certe cose non dovrebbe appartenere al genere umano, reagire così, seppur legittimo, in termini di regolamento, e non è un nuovo regolamento, perché ho sentito dirla qualunque ieri sera, anche a dettetti dei lavori, è qualcosa che non è permesso, che ti porta al secondo giallo, era successo anche noi con Ibra, ricorderete, dopo i cori che aveva ricevuto. Non si è indignato nessuno allora, si indignano tutti oggi, sempre a targhe alterne, è regolamento, e quindi andare a dire ce l'hanno con noi, eccetera, eccetera, è qualcosa che non stare in cielo niente. Ripeto, volevo non fare didattica, perché credo che lo si sappia, però ecco, mettere un puntino sulle I. Dopodiché pensiamo a noi, ci sono dei fatti, un escalation in questo video, di fatti che voglio denunciare e che non saranno né in cielo né in terra. Intanto, ecco, pensiamo a noi, ma riguarda la Juventus il primo fatto. Vi ho detto che negli ultimi giorni si parla di Serie B, addirittura, anche se io fatico a credere possa arrivare un provvedimento del genere, comunque la sentenza sui stipendi sarà molto pesante, sarà una mazzata, vedremo fino a che punto. Però, se verranno restituiti tra un paio di settimane i punti alla Juve, la Juve si vedrebbe a quel punto seconda in classifica, e se fosse oggi la restituzione noi scaleremmo quarti, sarebbe comunque bagare incredibile. Poi vi ho detto anche, però c'è l'UEFA che non farà partecipare la Juve alle Champions. Ebbene, pensate che le ultime notizie ci dicono che l'UEFA ha detto alla Juve, sintetizzo, ha fatto sapere alla Juve, che la sentenza sarà politica. La sentenza sulle questioni giudiziarie della Juventus sarà politica. Tradotto, non c'è un'equazione, tu hai fatto questo, allora passi a questo. E' una sentenza politica, quindi decisa un po' dall'alto, dipendente però da che cosa? Dalla rinuncia o meno della Juventus al progetto Superlega. Ancora più sintetizzato, cara Juve, se tu rinunci al progetto Superlega, noi usiamo i guanti. Se tu non abbandoni il progetto Superlega, noi invece andiamo giù pesanti. E io credo che, quindi, se tu rinunci alla Superlega, magari la Champions, le Coppe Europee le fai il prossimo anno, altrimenti no. E io credo che un sistema credibile, per essere credibile, intanto non si debba basare sui ricatti. In secondo luogo non debba dare dei premi a chi ha commesso delle irregolarità clamorose. Se fosse stato un altro club che invece non porta avanti la Superlega, allora no Coppe. Non devono essere due pesi, due misure. E' qualcosa che non sta né in cielo né in terra, che però purtroppo Seferin vuole portare avanti. Ricatta la Juve, che se però accetta il ricatto, ne esce magari quasi pulita. Eh no, questa è una cosa scandalosa, scandalosa e credo inaccettabile per qualsiasi persona adottata di buonsenso. Ma non è finita qui. Volto pagina, questione stadio. Sapete che oggi avrei dovuto appunto incontrare anche Scaroni a un evento, però purtroppo non stando benissimo non sono potuto presenziare. sapete che sta succedendo un po' di tutto sul tema stadio. Ma curiosamente il partito di Sala ieri ha detto, ha fatto sapere, andiamo avanti sul progetto di San Siro, quello del primo progetto sostanzialmente. Torniamo lì, come comunicazione di fatto ufficiale. Curiosamente veniamo a sapere che parallelamente l'Inter prova un contropiede nei confronti del Milan e manda una lettera in comune, spedisce una lettera in comune, con la richiesta di accelerare sul dossier San Siro, anche senza il Milan, messo in copia alla comunicazione inviata al sindaco Sala. Quindi l'Inter prova un contropiede nei confronti del Milan e la cosa singolare, molto singolare, è che sia contemporanea alla stessa richiesta del partito di cui abbiamo detto. La sensazione, più di una sensazione, è che il partito che dice no al Milan, al progetto La Maura e l'Inter, che è un ente privato, si siano messe d'accordo sulla strategia da adottare per mettere ulteriori momenti in basso di tra le ruote al Milan. Questo, purtroppo, non lo potremo provare, ma la coincidenza purtroppo è clamorosa e ci lascia intendere che sia andata così. Un motivo in più per pensare che, davvero, non siamo in buone mani, ecco, e che vengono utilizzati qualsiasi mezzo è lecito, anche con modalità un po' cortodosse. Ma c'è un'altra cosa che ho scoperto nel frattempo e questa, davvero, mi fa imbestialire. Avete visto, no? Che forse sono messo in campo per dire no al progetto stadio del Milan. 29 consiglieri su 31, prime pagine, dichiarazioni dei monguzzi, eccetera, eccetera. No, guai, il verde, ma scherziamo, un polmone verde, c'è già troppo cemento, ci sono colate di cemento, non va bene un'altra colata di cemento. E così, su Twitter, andando per, così, a curiosare, mi spunta un articolo e dico no. E mi fa capire come la gestione del tema stadio da parte di certe forze e di certe persone sia stata davvero qualcosa di strumentale e vergognosa. Lo sapevate voi, lo sapete voi, che nei prossimi mesi verrà inaugurato a Milano un nuovissimo centro commerciale con 170 negozi. Avete capito bene? 170 negozi. Un centro commerciale enorme, nuovo, a Milano, colata di cemento. Non verde, a differenza del progetto Milan che invece vuole valorizzare il verde. eppure io non ne ho sentito mai parlare da nessuno. Casualmente mi sono imbattuto in questa notizia su un profilo che parla di Milano. Eppure qui nessuno ha messo i bastoni tra le ruote, nessuno si è messo di traverso, nessuno ha parlato di colata di cemento noi ci opponiamo e qui non ci sono 29 consiglieri su 31 che hanno detto no. Perché? Perché del centro commerciale frega niente a nessuno. se dici no al centro commerciale entra da una parte e c'è dall'altra. Non finisci sulle prime pagine. Non hai l'ecomediatica che avresti e che hai avuto e che stai avendo se dici no allo stadio. Milan-Inter il calcio uh i radical chic green guai. Un centro commerciale a Milano 170 negozi cemento 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 zero verde eppure questo è andato bene. Capite che quando ci si arrabbia non lo si fa così per ma è assolutamente purtroppo naturale e spontaneo perché capiamo bene che per loro dire no al progetto Milan non è per il verde è per dare legittimità della loro presenza in un quadro politico del comune di Milano è per far parlare di sé è per sentirsi importanti questo non lo so mentre altrove altrove a Milano se costruiscono un centro commerciale mega va bene chi se ne frega questo è un fatto scandaloso questa è la prova provata è la pistola fumante che a questi del verde ne ne frega zero e che semplicemente vogliono mettere di basso dietro le ruote a un progetto importante molto mediatico come quello dello stadio non so non so che cos'altro aggiungere poi si può essere più favorevoli o meno allo stadio però vedete c'è un centro commerciale di 170 negozi è anche più grande di uno stadio non so se riesco a recuperare magari la volumetria ma sicuramente io credo che sia più grande di uno stadio e siamo a Milano dove dove i mongolzi eccetera eccetera avrebbero voce in capitolo a forma di cactus ah il verde è richiamato dalla forma di cactus c'è qualcosa di verde è una battuta ovviamente vediamo un po' 70.000 metri quadrati 70.000 metri quadrati 70.000 metri quadrati e qui no problem non ne ha parato nessuno avanti fate ragazzi mi fermo qui per me sono tre fatti scandalosi il primo è che se la Juve dice no alla Superlega allora la premiamo non va bene chi ha sbagliato deve pagare il secondo è che c'è un contopede dell'Inter molto singolare di tempistica e di modalità e di merito con quello che vuole quel partito che si oppone al progetto Milan e poi scoprire che a breve inaugurerà un centro commerciale mega galattico a Milano senza che nessuno mi abbia detto beh mi fa investialire ma non mi investialisco perché già non sto tanto bene vi mando un abbraccio ragazzi da me le mie occhiaia iscrivetevi qui siete dei cuori rossoneri attivate la campanella e un benvenuto ai nuovi lasciate un bel like e commentate con il vostro punto di vista sempre con civiltà e con rispetto mando un abbraccio a tutti grazie a tutti